Due persone arrestate e mezzo chilo di droga sequestrata. E' questo il bilancio di un'operazione condotta dai finanziari del gruppo di Olbia nello scalo portuale della città galurese. In manette sono finiti due cittadini tedeschi di 28 e 42 anni sbarcati da un camper da un traghetto proveniente da Genova ad attirare l'attenzione dei finanziari sull'automezzo di Labrador antidroga a semia. Alla richiesta di un controllo i due tedeschi hanno risposto affermando di essere degli abituali consumatori di stupefacenti e hanno consegnato alcuni grammi di marijuana. Ma l'insistenza con la quale il cane antidroga segnalava il camper ha indotto i militari a procedere ad una approfondita perquisizione del mezzo. All'interno del camper i finanziari hanno rinvenuto, confezionati e occultati nel bagaglio 140 grammi di marijuana, 40 grammi di hashish, 40 grammi di anfetamina e olio di hashish e diversi francobolli di LSD. A tirare l'attenzione dei militari una piantina grassa del peso di quasi 250 grammi tagliata a fette e lasciata a dessicare all'interno del camper. Le analisi hanno permesso di identificarla come la piantina di San Pedro, una sorta di cactus di origine sudamericana simile al peyote messicano ricca di alcaloidi e da cui è possibile ottenere con semplicità la pericolosissima mescalina, una potente droga lucinogena. I due cittadini tedeschi dopo le formalità di rito sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messi a disposizione dalla procura della Repubblica di Tempio.